C'è una situazione di tensione, non lo nascondo, dettata non dai medici di medicina generale tutti, ma dalla rappresentanza sindacale della FIMG. Questa situazione di tensione si protrae da diversi anni, indipendentemente dal direttore generale. A far scoppiare la guerra tra l'azienda sanitaria e una delle due sigle sindacali dei medici di medicina generale è l'assistenza nelle case di riposo. 16 quelle presenti nel territorio dell'Ulst 3, seguite da 31 diversi medici. 4 di questi hanno cessato l'attività. L'azienda sanitaria pertanto si è trovata a doverli sostituire. L'azienda doveva individuare la sostituzione di 4 medici che prestano assistenza agli ospiti delle case di riposo. Avevamo esaurito la graduatoria, l'elenco dei disponibili e abbiamo quindi proposto di affidare questo incarico a dei medici di guardia medica che abbiano ovviamente caratteristiche di esperienza e fatto il corso della medicina generale. Una decisione, quella di ricorrere alle guardie mediche, già in uso in altre aziende sanitarie, ma che pare proprio non essere piaciuta ai medici della FIMG che hanno lasciato il tavolo delle trattative. In merito proprio alla situazione all'ora delle case di riposo, al momento comunque tutti i pazienti sono coperti? Sì, certamente. I 4 medici che vanno sostituiti saranno a breve sostituiti. Non viene a mancare certamente la continuità dell'assistenza per questi ospiti da parte del medico di medicina generale.